Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 2 km di coda per lavori tra Valdarne e Arezzo in direzione di Roma. Sulla Firenze Mare restano 4 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia BV11 e 1 per traffico intenso, tutto verso Firenze. In FIPILI per interventi di miglioramento della sicurezza troviamo rallentamenti verso Firenze tra Montelupo e Ginestra, in carreggiata opposta a coda di 2 km tra la Strassigna e Ginestra. Ricordiamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla SP12 per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Per i stessi lavori inoltre l'entrata di Ginestra è chiusa al traffico per chi viaggia in direzione di Livorno. Per il traffico urbano del capoluogo in viale degli astronauti in direzione città, restringimento della carreggiata per lo sprofondamento di un tombino team. Risentimenti in ingresso città già all'uscita dell'autostrada. Moversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.